Lutero, mendicante di Dio, di Paolo Ricca, settima puntata, defide olim mirum erat silenzium. Allora, riprendiamo, dopo aver visto la volta scorsa le ombre, i punti oscuri, se vogliamo, di Lutero relativamente ai contadini e agli ebrei, riprendiamo a vedere che cosa Lutero, invece, ha portato nella storia cristiana, per capire poi anche Riforma, che cosa vuol dire. Saluto subito il professor Paolo Ricca, buongiorno. Buongiorno. E le chiederei subito di spiegare questo titolo, facciamo un po' di esercizio di latino, un po' di tempo. Defide olim mirum erat silenzium. Ecco, un tempo, cioè prima della Riforma, regnava intorno alla fede un silenzio stupefacente. Questa frase si trova nella confessione di Augusta, scritta da Melantone, nel 1530, presentata a Carlo V, e, appunto, qui Melantone, il grande amico di Lutero, descrive quella che era la situazione della Chiesa e dell'insegnamento cristiano prima della Riforma, e appunto dice che c'era un silenzio stupefacente intorno alla fede. Non è che c'era silenzio in generale, al contrario, c'era un gran parlare, un gran rumore, si parlava di tutto, ma la situazione culturale, cristiana, a livello popolare, insisto su questo punto perché altrimenti non si riesce a capire, a livello popolare, cioè della comunità di base, era estremamente depressa. Ecco, e cosa vuol dire era depressa? Intanto cosa vuol dire, a livello popolare, vuol dire che invece altrove non c'era silenzio sulla fede, in pochi luoghi... Nei luoghi privilegiati del sapere, cioè praticamente nelle facoltà teologiche, nei salotti, diciamo, se c'erano a quel tempo l'equivalente dei salotti dell'epoca... Nelle università o... Sì, allora, lì certo, anzi, c'era un dibattito teologico vivacissimo, ma a livello popolare, praticamente, si insisteva su quello di cui abbiamo già sentito parlare nel corso di queste trasmissioni, cioè si predicavano le opere, si esortava alla virtù, alla pietà, si raccomandavano naturalmente i pellegrinaggi, acquistare le indulgenze... Ecco, invece di che cosa c'era assenza? Cosa vuol dire che c'era molto silenzio intorno alla fede? Intorno alla fede, cioè c'era molto silenzio intorno ai contenuti della fede, non si spiegava veramente che cosa volesse dire e credere. Quindi non c'era l'interrogazione sulla fede? Non c'era l'interrogazione sulla fede, ma anche proprio la spiegazione, non dimentichiamo, la riforma nasce da una riflessione sulla penitenza, l'abbiamo visto, le 95 tesi vertevano sulla penitenza, cioè i punti fondamentali del cristianesimo non venivano spiegati oppure se ne dava una spiegazione più che altro implicita, perché non c'era l'istruzione catechistica come poi appunto si è istituita, era una specie di insegnamento implicito che avveniva in maniera sovente deformata. Ecco, adesso vediamo in che maniera invece si dovrebbe o è stato fatto discorso intorno alla fede, con la riforma però va detto che le cose cambiano. Sì, le cose cambiano perché mentre prima in fondo si pensava che bastava che il teologo sapesse che cosa fosse il cristianesimo, il popolo doveva semplicemente ubbidire, adesso invece con la riforma si vuole che la fede di ciascuno e non soltanto di qualcuno sia consapevole. Questa consapevolezza non è soltanto presente nell'ambito strettamente religioso, ma è un'esigenza che anche, si capisce, sotto la spinta dell'umanesimo, abbraccia l'intera società, cioè non è soltanto la chiesa che in qualche maniera con la riforma diventa una scuola, cioè un luogo in cui si impara, non dico a credere perché questo non si impara, ma un luogo in cui si imparano veramente i contenuti della fede, veramente si impara che cosa vuol dire credere, che cosa vuol dire amare, chi è Dio, qual è il rapporto che l'uomo deve avere con Dio e così via, tutte queste realtà vengono di nuovo rimeditate, ricomprese e rispiegate. Ecco, quindi lei ha detto spiegare, rendere consapevoli, ecco, allora va capito bene in che modo la consapevolezza, cioè il sapere, l'essere coscienti, il conoscere anche ha rapporto con la fede? Beh, si capisce, perché soltanto una fede consapevole è veramente viva, soltanto una fede consapevole è veramente responsabile, soltanto una fede consapevole può portare, per così dire, tutti i compiti che l'Evangelo e la parola di Dio affidano al cristiano. Ecco, quindi solo se nutrita di conoscenza, la fede è fede, insomma. Sì, solo se nutrita di conoscenza la fede è adulta. È adulta. Ecco, praticamente è attraverso la conoscenza che la fede diventa adulta, supera il livello della minorità, diciamo così, cioè in fondo il livello della dipendenza, e acquista autonomia, si capisce, sotto la parola di Dio, ma acquista indipendenza, acquista anche coraggio, acquista capacità di iniziativa. E aggiungerei forse una cosa ancora, rifacendomi alla parola di Gesù, la verità vi farà liberi, ecco, in fondo la conoscenza libera, libera soprattutto dalle dipendenze. In fondo non c'è nessuno così dipendente come l'ignorante. E non è un caso che appunto lo Spirito Santo venga continuamente nella Bibbia visto come il maestro, quello che Sant'Agostino chiamava il maestro interiore, cioè colui che appunto ti porta alla coscienza, ti porta alla consapevolezza e quindi ti rende autonomo, ti rende perfettamente. Cioè, cristiano adulto appunto. Cristiano adulto, allora cristiano adulto e così si rompe il vincolo delle gerarchie della dipendenza? Eh sì, e soprattutto della gerarchia del sapere, più difficile da smascherare in un certo senso, ma è quella più tremenda. E qui abbiamo allora un punto decisivo nella storia della riforma, ma voglio dire di più nella storia del cristianesimo, una piccola opera di Lutero, piccola come volume, ma veramente rivoluzionaria per i suoi contenuti, che ha niente meno che questo titolo, secondo la scrittura, secondo la Bibbia, un'assemblea o comunità cristiana ha il diritto e la facoltà di giudicare ogni dottrina e di chiamare, insediare o destituire i dottori. Ecco, questo che cosa significa allora nel tempo di Lutero, ovviamente la sua grande lotta alla Chiesa, ma poi come si è sviluppata questa... La lotta a un certo tipo di Chiesa. A un certo tipo di Chiesa. Alla Chiesa che c'era allora. Alla Chiesa che c'era allora, alla Chiesa tradizionale, alla forma tradizionale della Chiesa, perché Lutero amava molto la Chiesa. Dunque, sì, significa sostanzialmente, già il titolo programmatico di quest'opera, poi vediamo brevemente i suoi contenuti, significa la fine della divisione, che praticamente durava da secoli, tra la cosiddetta Chiesa discente, cioè la Chiesa che impara, e la Chiesa docente, cioè la Chiesa che insegna. Ecco, praticamente Lutero amava... Quindi tutti uguali. Beh, no, no. Cioè, tutti uguali nel senso che c'è una reciprocità. Ecco, l'uguaglianza cristiana è questa. È l'uguaglianza nel senso della reciprocità e della corresponsabilità. Per cui Lutero dice, proprio in quest'opera, il vescovo predica, ma è il membro di Chiesa, è, come dice lui, la pecora del gregge di Cristo, che giudica se la voce del pastore è veramente la voce del maestro vero, cioè la voce del buon pastore, la voce di Gesù, o è invece la voce di uno straniero. Cioè, il vescovo, il pastore, il dottore, insomma, insegnano e predicano, ma è la comunità cristiana concreta fatta da semplici laici che giudica la dottrina perché sa distinguere la voce di Cristo da tutte le altre. Questo è un fatto straordinario, un fatto veramente rivoluzionario che ha capovolto tutto un sistema plurisecolare. Quindi una grande sfida viene lanciata all'ordine esistente. Una grande sfida, una doppia sfida di lei, cioè da un lato viene sfidato il vescovo, viene sfidato il pastore, il dottore, la Chiesa docente viene sfidata in quanto che deve trovare il coraggio e l'umiltà di sottoporre il suo insegnamento, la sua predicazione alla verifica critica della comunità cristiana concreta. Però anche la comunità concreta, anche il semplice laico viene sfidato perché deve uscire dalla condizione secolare di passività, di dipendenza, deve assumersi la responsabilità del discorso cristiano che si fa nella comunità e attraverso questa comunità. Sì, è molto importante quello che dice perché appunto il giudicare può essere anche semplice arbitrio o semplice così incantamento, quindi ecco si può dare un giudizio positivo o negativo, ecco invece il giudizio deve essere responsabile, adulto a sua volta. Adulto a sua volta, responsabile, poi ripeto, il criterio fondamentale è sempre la voce di Cristo. Il quale a sua volta lancia una grande sfida naturalmente. Ai dottori del suo tempo. Ai dottori del suo tempo. Sì, delle pagine molto severe anche ci sono riportate al riguardo, ma appunto perché quando il sapere diventa potere diventa non un sapere che libera ma un sapere che opprime. E questo era appunto la situazione al tempo di Gesù in larga misura. In cui si torna alla verità che rende liberi naturalmente. E si torna alla verità che rende liberi. Ecco, leggiamo però, allora cominciamo a sentire che cosa dice Lutero. Un passo in cui Lutero con grande chiarezza, in una specie di sintesi limpidissima ed efficace dice che cosa il cristiano deve sapere. Cioè, che cos'è questa conoscenza che deve avere il cristiano. Il nostro Evangelo, Dio sia lodato, ha suscitato molte cose grandi e buone. Prima nessuno sapeva che cosa fossero Evangelo, Cristo, Battesimo, Confessione, Santa Cena, Fede, Spirito, Carne, Un'Opera Buona, I Dieci Comandamenti, Il Padre Nostro, Preghiera, Sofferenza, Consolazione, Autorità Temporale, Stato Coniugale, Genitori, Figli, Signore, Servo, Moglie, Serva, Diavolo, Angeli, Mondo, Vita, Morte, Peccato, Giustizia, Perdono dei Peccati, Dio, Vescovo, Pastore, Chiesa, Cristiano, Croce, Insomma, non sapevamo nulla di ciò che un cristiano deve sapere. Tutto era oscurato e calpestato dall'asino papista, ma ora Dio si è lodato. Siamo giunti al punto che uomo e donna, giovane e vecchio, conoscono il catechismo e sanno come si deve credere, vivere, pregare, soffrire e morire. E questo è davvero una bella istruzione della coscienza. imparare a essere cristiani e riconoscere Cristo. Allora, Paolo Ricca, una lunga elencazione di quello che è la vita di tutti, praticamente, la vita del cristiano in particolare. Qual è il senso che dobbiamo trarre? Quando tutte queste realtà che sono lì elencate vengono poste nella luce della parola biblica, allora veramente conosciamo che cosa sono, allora veramente sappiamo quello che dobbiamo sapere su di esse. Cioè, l'istruzione di cui qui si parla è l'incontro tra tutte le cose elencate lì e la parola di Dio. Da questo incontro nasce il sapere, nasce la conoscenza. Ecco, il sapere e la conoscenza cristiana allora e poiché Lutero era una persona anche molto concreta, aveva delle idee molto concrete su come questo potesse e dovesse avvenire, no? Sì. Ecco, innanzitutto per noi è molto semplice, cioè semplicemente l'istruzione. L'istruzione, l'istruzione popolare è stata una grande passione di Lutero, abbiamo di lui naturalmente molti documenti ma in particolare due importantissimi sermoni, uno del 1524 rivolto alle amministrazioni municipali, diremmo oggi, ai borgomastri, ai consigli delle città, eccetera, eccetera, in cui Lutero invita fortemente, vivamente queste autorità a istituire e a mantenere, cioè a pagare, a finanziare delle scuole cristiane e delle scuole pubbliche. Poi abbiamo l'altro discorso del 30 rivolto questa volta ai genitori affinché essi lascino i figli a scuola, non li tirino via appena hanno imparato i primi rudimenti del sapere per mandarli a lavorare ed è molto interessante che anche le ragazze, dice Lutero, devono studiare, non soltanto i ragazzi come accadeva allora, si capisce, è accaduto ancora per per molto tempo e l'altra cosa importantissima la trasformazione dei conventi in scuole pubbliche. Questa è stata un'opera che Lutero ha compiuto, Lutero in generale alla riforma, è stata l'utilizzazione moderna diciamo del convento che ormai era largamente inutilizzato. Ecco, questo è uno dei risvolti sociali della riforma di Lutero. c'è proprio una specie di lotta contro l'analfabetismo sia cristiano sia laico cioè l'analfabetismo si comincia da quello ovviamente proprio dall'andare a scuola. Tra l'altro lei ci aveva portato dei testi che non faremo a tempo a leggere in cui Lutero diceva che dice che se non fosse stato predicatore avrebbe voluto essere maestro elementare. E dice che in fondo la più grande anzi lui era indeciso quale sia la funzione più importante se quella di predicare o quella di insegnare di fare proprio il maestro elementare perché dice tutto sommato un bambino lo si può orientare lo si può raddrizzare ma aveva una certa sfiducia verso le persone ormai incancrenite che non cambiano qualunque discorso si faccia qualunque predica si tenga. Ecco è bella questa attenzione all'infanzia perché poi c'era un altro testo anche questo non potremmo leggerlo in cui Lutero si mette a sua volta invece nell'atteggiamento del bambino ecco dicendo che cosa? Dicendo che lui vuole restare nell'atteggiamento del bambino era rispetto appunto ai dotti che ritengono di sapere di avere la conoscenza la dottrina e così via esatto rispetto ai dotti e invece lui dice in fondo la vita non è che una scuola perenne che non finisce mai da un lato poi l'altro questo è l'atteggiamento del riformatore e dall'altro e dall'altro c'è naturalmente il fatto che il bambino è in fondo il modello fondamentale per Lutero della fede nel senso che per Lutero la fede è sostanzialmente fiducia e il bambino è per definizione colui che ha fiducia quindi restare bambino in questo senso nel resto c'è anche poi Gesù che ci invita a diventare addirittura come piccoli fanciulli restare bambino significa mantenere quell'atteggiamento di fiducia che è il rapporto fondamentale che ci mette nella giusta posizione nei confronti di Dio quindi il continuare ad imparare l'atteggiamento di fiducia questo sottolinea Lutero ecco accanto però all'istruzione pubblica la scuola pubblica c'è la scuola della fede vera e propria ecco la chiesa e questa come come si articola invece questa attività e beh appunto la chiesa come scuola della fede si articola lo possiamo articolare lunghe tre tre linee la prima è il catechismo la seconda è la preghiera e la terza è il canto va bene allora adesso ci fermiamo su questi tre ambiti la prima lei ha detto il catechismo e cioè la dottrina cioè che cosa poi un cristiano professa in che cosa crede Lutero scrisse due scrisse due catechismi ecco scrisse due catechismi e questo il cosiddetto piccolo catechismo il grande catechismo tutti e due li ha scritti nel 1529 questo fatto del catechismo è di un'enorme importanza perché è attraverso il catechismo e i catechismi in particolare di Lutero che la riforma ha preso piede ha preso radice nel popolo è stata una vera e propria grande opera capillare di alfabetizzazione cristiana di base e quest'opera è tanto importante che il concilio di Trento insomma la chiesa cattolica l'ha ripresa e di fatti dopo la conclusione del concilio di Trento subito è venuto fuori il catechismo tridentino un grande storico del cristianesimo Jean Delumont francese ha sostenuto una tesi che io considero sostanzialmente corretta e cioè questa che il sedicesimo secolo che potremmo chiamare il secolo dei catechismi è stata la prima vera evangelizzazione cristiana di base in Europa proprio attraverso i catechismi quelli di Lutero nell'area protestante e quello tridentino nell'area cattolica ecco allora di quanto questa alfabetizzazione di Lutero insomma messa in atto da Lutero sia non solo di area protestante ma anche cattolica forse può essere testimonianza così ultima diciamo anche questo lavoro di Carmelo Carvello che insegna teologia liturgica e catechetica nell'istituto teologico pastorale Monsignor Guttadauro di Caltanissetta noi l'abbiamo sentito l'altro giorno purtroppo non poteva essere qui con noi oggi e ci ha raccontato lui ha curato il piccolo catechismo di Lutero per le edizioni del seminario di Caltanissetta ha curato un'edizione introduttiva insomma al piccolo catechismo con molta adesione evidentemente e ci ha raccontato un po' il senso di questo suo lavoro io penso che sia un testo che ancora oggi si potrebbe leggere bene perché ha una pedagogia una metodologia e un linguaggio attraente voglio dire che Lutero manifesta apprezzabile qualità di pedagogo che riesce a comprendere la psicologia dei fanciulli dell'uomo del popolo e si fa comprendere da loro con rara e invidiabile abilità questo sia nel metodo di insegnamento sia nel linguaggio con il quale espone i nuclei principali della fede e i comandamenti il simbolo della fede il padre nostro il riformatore Lutero non perde mai di vista la prospettiva pedagogica cioè ha dinanzi e chiaramente dinanzi la formazione integrale del cristiano nella fede per cui il suo approccio è rimane ancora oggi da seguire perché più che una esposizione dottrinale fredda arida cerca di andare dritto al cuore di colui che ascolta si infatti Lutero dice a un certo punto bisogna per spiegare che bisogna mettersi sul piano delle persone che devono ricevere queste parole dice guardare la bocca come pronuncia le parole lui dice proprio interrogare la madre in casa i bambini per la strada l'uomo comune al mercato come diceva giustamente lei guardare la bocca per vedere come parla non tradurre inconformità però a chi dunque in generale a chi si rivolge Lutero certo alle persone semplici ai contadini eccetera ma c'è un passo che lei riporta in cui dice buon Dio quanta miseria ho visto l'uomo del popolo non sa nulla della dottrina cristiana e purtroppo molti pastori sono quasi netti incapaci di insegnare ecco quindi ha una situazione di grande analfabetizzazione del cristiano purtroppo sì Lutero nella sua vasta attività di predicatore si accorge di questo prima di scrivere il piccolo catechismo aveva fatto esperienza diretta quasi toccato per con mano la situazione grave in cui languiva il popolo cristiano si rivolge non tanto e non semplicemente ai bambini si rivolge ai genitori e questa è una cosa notevolissima sono i genitori i primi formatori i primi educatori nella fede dei propri figli ma come dicevo come metodo come approccio rimane validissimo anche per i pastori noi sappiamo che Lutero scrisse anche oltre al piccolo catechismo un grande catechismo rivolto ai pastori e anche lì nonostante che il linguaggio sia più elevato Lutero raccomanda la semplicità la chiarezza l'attenzione alla persona al destinatario ecco però se facciamo attenzione ai destinatari oggi chi faccia catechesi non ha di fronte questi contadini o questi pastori incolti però che cosa ha di fronte o le persone che vivono in periferie degradate delle città oppure in società altamente consumistiche altamente tecnologizzate eccetera questa parola semplice di Lutero secondo lei in che modo può arrivare? Sì io penso che possa arrivare utilizzando il linguaggio di Lutero il linguaggio di Lutero non è rivolto alla mente è rivolta al cuore una sorta di io la chiamerei teologia o catechesi narrativa andeliteram oggigiorno c'è stata la riscoperta c'è la riscoperta di una catechesi di una teologia narrativa che utilizzi non soltanto un linguaggio una terminologia ma proprio il metodo della narrazione che avvinge che prende Lutero è uno che sa narrare la storia della salvezza e in questo senso sa avvingere sa convincere sa coinvolgere personalmente per questo le dice un Lutero non dottrinale ma sapienziale ecco perché vuol dire che tocca il cuore dell'esperienza delle persone è una teologia senz'altro alla quale anche in ambito cattolico si deve continuare ad attingere secondo lei indifferentemente cattolici e protestanti possono attingere a questo a questo testo per esempio sì io penso di sì sia per la dottrina che è fondamentalmente a mio parere condivisibile oltre al fatto che Lutero in questo testo evita ogni forma di contrapposizione certo non bisogna nascondere che le distanze nei confronti della dottrina cattolica presa globalmente rimangono e tuttavia ripeto sia per la dottrina così semplice esposta in maniera avvingente sia per il metodo usato sia per l'impostazione soprattutto se noi facciamo per esempio un confronto con il catechismo di Roberto Bellarmino San Roberto Bellarmino ci accorgiamo subito la notevole distanza non tanto dottrinale anche quello un tantino ma soprattutto metodologica del linguaggio dell'approccio una teologia quella del Bellarmino più astratta una sorta di di summa teologica va bene la ringrazio molto Carmino Carmelo grazie tante tante cose grazie grazie ecco allora ringrazio Carmelo Carvello lei ha sentito quanto ha detto Paolo Ricca ha capito molto bene di che cosa si tratta e ha spiegato molto bene il valore del metodo di Lutero il fatto che egli parla direttamente al cuore perché è un discorso di fede in sostanza non è un discorso di dottrina è un discorso di fede e è un discorso che abbina in una maniera veramente straordinaria semplicità e profondità cioè riesce a dire con parole assolutamente semplici e quotidiane il cuore vero profondo della fede cristiana ecco quindi da leggere anche oggi naturalmente sì assolutamente è un modello insuperato un modello insuperato ecco allora a questo proposito da leggere anche oggi ma questa alfabetizzazione del cristiano che Lutero ha voluto iniziare con cui ha voluto rompere una tradizione così statica come appunto ci stava dicendo anche Carvello se lei dovesse giudicare oggi che si parla molto di religione si parla molto di cristianesimo e così via a che punto è questo processo di alfabetizzazione è un punto critico molto critico perché da un lato c'è una dilagante ignoranza anche oggi con tutti i mezzi di informazione tutti i libri i discorsi è uno dei paradossi del nostro tempo cioè c'è un'enorme quantità di sapere sul mercato ma resta sul mercato si direbbe oppure viene comprato ma non viene interiorizzato per cui se oggi lei chiede anche per la strada per così dire in Italia o a Roma addirittura che cos'è la Pentecoste vorrei vedere che risposte riceve cioè la maggior parte delle persone non soltanto dei giovani come si dice di solito i giovani non sanno i giovani non sanno non soltanto di loro non saprebbero che cosa risponde la Pentecoste che cosa si può dire che impressiona di più ecco che turba di più di questa ignoranza quello che turba è che siamo come diceva Barthe dei cristiani non cristiani cioè c'è un cristianesimo che è ormai un puro dato sociologico senza contenuti né di conoscenza né soprattutto di convinzione e quindi naturalmente non voglio generalizzare delle minoranze cristiane ce ne sono dappertutto e ci sono anche nel nostro paese e ce ne rallegriamo però appunto se uno pensa all'immenso investimento pensiamo anche soltanto all'insegnamento della religione nella scuola pubblica che comincia dalla scuola materna e va avanti fino al liceo se uno paragona questo immenso investimento con i risultati che sembrano essere quelli che appunto si vedono tutti i giorni beh c'è veramente da restare allibiti insomma vuol dire che tutto questo insegnamento non lascia tracce probabilmente perché non incide nel vissuto di chi lo riceve ecco secondo lei che cosa bisognerebbe fare invece per farlo incidere questo naturalmente è un problema grosso è un problema grosso è un problema complesso io ricordo però una indicazione che ci dava Bonhoeff tanti anni fa e che purtroppo le chiese non hanno creduto di dover seguire certo una medicina amara potremmo dire un rimedio drastico quello che lui proponeva lui diceva che a suo giudizio le parole cristiane si erano consumate e non portavano più il contenuto che esse volevano esprimere non trasmettevano non comunicavano per cui lui suggeriva addirittura di entrare in un tempo di silenzio in cui il cristianesimo avrebbe dovuto essere e consistere soltanto diceva in lavorare per la giustizia e pregare ma non più parlare non più predicare parlare soltanto a Dio ma nei confronti del mondo tacere e lavorare per la giustizia da questo travaglio diceva Bonhoeff anche da questo silenzio da questa ascesi potremmo dire sarebbe nato diceva lui un nuovo linguaggio un linguaggio che di nuovo avrebbe comunicato quello che Dio vuole comunicare alla nostra generazione ecco questa indicazione di Bonhoeff nessuna chiesa ha avuto il coraggio di farla proprio le chiese continuano a parlare ma ahimè ho l'impressione che appunto parlano in vano invece lei sarebbe per una forma di silenzio una forma di silenzio che non vuol dire naturalmente tacere su tutto ma no 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 ma appunto essere consapevoli di questa situazione critica in cui è entrato il linguaggio cristiano tradizionale e che le parole si possono consumare appunto perdere vigore perdere vita sì e non riuscire più a comunicare beh questa è una bella cosa su cui meditare su cui su cui riflettere però noi dobbiamo procedere con Lutero allora stavamo dicendo la scuola della fede il primo cioè un primo ambito era l'insegnamento della dottrina un secondo lei ci ha detto la preghiera la preghiera e questo è un tema stupendo non lo possiamo affrontare così ecco vediamo limitiamo a ecco che cosa dice Lutero della preghiera magari ascoltiamo che cosa dice Lutero scrivendo a un amico della preghiera quando si sente in difficoltà e gli racconta gli racconta come prega a un buon amico su un modo semplice di pregare 1535 caro Mastro Pietro a proposito della preghiera ti confido tutto quello che so e come io mi comporto e che il Signore Dio nostro conceda a te e ognuno di fare sempre meglio Amen per prima cosa quando mi accorgo di essere diventato freddo e svogliato nei riguardi della preghiera a causa di pensieri e di interessi estranei ad essa la carne e il diavolo infatti sono sempre all'opera per ostacolare la preghiera ecco prendo il mio piccolo salterio corro in camera oppure se il giorno il tempo lo consentono in chiesa tra la gente e comincio a recitare oralmente a me stesso proprio come fanno i bambini il decalogo il credo e secondo il tempo che mi resta alcuni detti di Cristo di Paolo o dei salmi è buona cosa pertanto che di buon mattino la preghiera sia la prima occupazione e di sera sia l'ultima e bisogna guardarsi diligentemente da un certo pensiero che è solito venire ma che è falso e ingannevole e che in noi si insinua così ancora un momento sì vorrei pregare per un'ora ma prima devo portare a termine questa o quella faccenda e questo è il modo per cadere dalla preghiera nell'affarismo e vi si resta talmente avvolti che la preghiera quotidiana viene totalmente trascurata allora Lutero sulla preghiera beh intanto ecco lei l'ha messo come un elemento poi ci fermiamo anche su questo passo che è particolarmente bello come un elemento di questa disciplina del cristiano ecco si può imparare a pregare sì certo e come si fa si può imparare a pregare nel senso che bisogna pregare si impara a pregare pregando non ci sono altri modi e per fortuna ma e che del resto Lutero lo dice anche in questo racconto non siamo senza modelli ecco infatti lui dice che comincia leggendo recitando e prende il salterio i salmi i salmi sono 150 preghiere alcune anche molto lunghe diversissime tra loro ecco quella è veramente la grande scuola della preghiera chi va a scuola dai salmi impara a pregare ecco quindi intanto si prega sulle scritture e poi però c'è spazio anche per la preghiera personale individuale sì si può dire che in fondo tutta la realtà diventa tema di preghiera questa è una delle caratteristiche di come Lutero vede la preghiera anche la Bibbia tra l'altro non soltanto Lutero cioè praticamente in fondo tutto diventa preghiera io direi quasi che noi stessi diventiamo preghiera in fondo l'uomo è una preghiera è un'invocazione è un'attesa è un rivolgersi a un tu che crediamo ci ascolta questo è l'uomo quindi ogni gesto può essere preghiera sì e perché è così importante in questo passo di Lutero quando dice pregare per prima cosa al mattino e l'ultima la sera l'idea del pregare al mattino è perché il risveglio è comunque sempre un miracolo e col risveglio si risveglia il mondo e allora noi l'odiamo Dio nella preghiera lo ringraziamo e ci affidiamo a Lui per le ore che vengono e la sera è il contrario la sera è il sonno è un cadere in una situazione in cui non siamo più padroni di noi stessi e allora lì ci affidiamo a Dio e quindi c'è veramente l'alfa e l'omega l'inizio e la fine quindi in fondo questo inizio e questa fine è soltanto per indicare i due termini di una preghiera che continua per indicare una continuità sostanzialmente ecco poi Lutero dice anche invece come non si deve pregare e per esempio cita in un passo che appunto non facciamo a tempo a considerare il Padre Nostro come la preghiera più come dice più maltrattata la preghiera martire la preghiera martire e si è la preghiera martire perché viene ripetuta infinite volte e dice ma nessuno pensa a quello che dice e questo è verissimo è verissimo anche oggi anzi secondo me si dice troppo spesso questa preghiera tanto che ci sono delle chiese che non la dicono affatto cioè ci sono delle chiese che la tengono per alcuni momenti si oppure come il modello di tutte le preghiere che siamo invitati a fare ma che non è lei la preghiera da ripetere ecco cioè una specie di sorgente della preghiera più che la preghiera stessa ecco poi c'è forse da dire ancora un'altra cosa Lutero insiste ma lì in fondo non fa altro che riprendere le indicazioni di Gesù sulla preghiera lui dice che bisogna pregare poco e spesso e aggiunge che bisogna pregare dicendo poche parole ma dicendole con molta fede queste sono anche delle belle indicazioni molto utili per quelli che pregano ecco poi lei diceva c'è un terzo modo di imparare se così vogliamo dire la fede ed è per Lutero la musica il canto ecco e la musica è per Lutero è una dunque lui ha scritto nel 1538 pochissime pagine due o tre pagine non di più come introduzione a una raccolta di inni polifonici che venne stampato in quell'anno un elogio della musica e lì ci sono molti pensieri estremamente suggestivi per esempio per esempio l'idea che la musica è stata creata insieme al creato cioè Dio creando tutto quello che esiste ha dato una musicalità a tutto a tutte le creature anche a quelle inanimate dice non c'è nulla che non abbia un ritmo e che non abbia un suono è come se ci fosse una specie di musicalità nel creato che aspetta soltanto di essere messo in luce ci sono delle tradizioni orientali che fanno risalire la creazione a un suono originale è vero sì 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 e l'utero in un certo senso così come anche si dice che il bambino nel ventre materno impara non so che cosa impara a conoscere attraverso il ritmo del cuore della madre ah ecco ma questo non sapevo molto interessante sì quindi l'utero raccoglie raccoglie queste suggestioni e poi un'altra cosa lui dice che la musica dopo la parola di Dio è la cosa più importante che c'è al mondo è anche quella più importante per governare e dirigere i cuori governare e dirigere le passioni praticamente per l'utero la musica sai che cos'è è una specie di seconda parola di Dio cioè un altro modo con cui Dio agisce e governa la nostra vita ecco adesso sarebbe interessante noi sentiremo adesso anche una delle perché l'utero compose poi anche l'utero compose fin da bambino da bambino da ragazzo aveva cominciato a cantare anzi era un modo con cui anche pagava una parte dei suoi studi cantava per le strade suonava ha imparato a suonare il liuto eccetera eccetera no no era molto addento alla musica e aveva una passione straordinaria ecco fin dall'origine comunque bisogna dire che la chiesa cristiana ha accompagnato le preghiere con i canti con la musica anche qui forse bisognerebbe riaprire il discorso con la musica se si vuole rialfabetizzare i fedeli anche perché Lutero dice appunto che il top diciamo così della lode di Dio sia quando parola e musica si mettono insieme cioè queste due che potremmo chiamare le figlie predilette di Dio sono anche i due strumenti più belli più idonei per insieme dar vita alla lode di Dio ecco allora io credo che potremmo chiudere questo incontro di oggi proprio